Ciao ragazze, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosceva, io sono Cristina Varone e come ogni settimana mi trovate qui a parlare di un argomento che ci interessa di cosmetica, di make-up o di formazione. Oggi ci troviamo qui per fare questo make-up fantastico, meraviglioso, insieme con la palette del Natale. Quindi pasticciamo insieme, in totale relax, quindi mettetevi comode. Io mi voglio assolutamente rilassare a fare questo make-up. Vediamo un po' tutti i prodotti del Natale. Ti ricordo che se vuoi fare un ordine, ordinare questi prodotti o altri Yves Rocher, ti lascio qua sotto il link dove puoi fare il tuo ordine in totale autonomia e riceverlo direttamente a casa, pagamento posticipato 20 giorni e con tantissimi campioncini, sconto personale e spese di trasporto gratuite. Quindi fai un salto qui sotto, trovi anche il mio recapito se vuoi iscrivermi per avere qualche consiglio in più. Bene, iniziamo a truccarci. Eccoci qua. Mi sono preparata un bel tè caldo, voglio rilassare. In questo momento me lo dedico. Ho anche acceso la candela alla vaniglia dell'edizione Natalizia. Diciamo ciao al water. E assolutamente appunto relax. E ci trucchiamo insieme. Appunto facciamo un bel make up con i prodotti del Natale. Iniziamo col fondotinta. Fondotinta uso il Nude Detente, che è un fondotinta appunto appena uscito. Abbiamo visto insieme nell'album. Uso il pennello, quello è lo 03, inf cochet. E la colorazione che uso è Ivory. È un fondotinta a effetto nudo e appunto si fonde molto bene con la colorazione dell'incarnato. Ci sono sei colorazioni, è un fondotinta molto delicato, quindi va benissimo per le pelli appunto sensibili e delicate. E appunto siccome si fonde molto bene con la colorazione del nostro incarnato, abbiamo sei colorazioni che sono molto versatili. Insomma vanno bene per diverse tipologie di colorazioni di incarnato, di carnagione. E ha una coprenza 1, quindi non è super coprente, ma appunto è questo quello che fa. È il fondotinta che mancava in i brochets. È un fondotinta appunto che uniformi l'incarnato e che illumini appunto la nostra pelle, il nostro viso. Poi vado di correttore. Uso questo qui in stick un po' più chiaro. E poi passo ovviamente alle palette del Natale, non vediamo l'ora. Palette del Natale e anche a l'illuminante e poi anche il rossetto. Oltre a ovviamente il mascara. Quindi insomma facciamo un bel make up completo agli occhi, sugli occhi, tra gli occhi. Negli occhi? No. Allora, uso la palettona. Abbiamo ben due scelte. Palettona o palettina. Oppure e palettina. Palettona e palettina. Devo dire che il colore che assolutamente mi piace tantissimo di questa palettina è questo qui al centro. Che si chiama Agate. 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 E mi piace moltissimo. E questo rosa penso che lo scaverò, nel senso che lo utilizzerò parecchio perché mi piace. E devo dire invece di questa super palettona, i colori sono un po' nel senso che a me piacciono più i colori caldi. E però quello che mi intriga di questa paletta è sicuramente questo viola. E mi intriga anche molto questo oro. Oltre a questo nero che sicuramente per le feste di Natale, l'ultimo dell'anno. Infatti mi sono messo con questa maglietta un po' paiettosa per ricordare l'ultimo dell'anno. E non so, voi quale scegliereste? Ma anche questo abinus è molto bello. Questo lillino effettivamente. Sono un po' indecisa, devo dire. Un po' indecisa. Sì, diciamo che allora sceglieremo questi due. Il Venus e il Cosmos perché mi piacciono molto. E magari anche un po' di Eclipse, questo verde. Questi tre colori. E magari... Iniziamo. Allora, su tutta la palpebra vado a mettere lui, il Lifeproof. E questo è il colore, colore, comanda colore 01 Rose Nude. Lo vado a mettere su tutta la palpebra e lo uso praticamente come primer. In modo tale che l'ombretto rimanga proprio più fissato. E il colore risalti ancora di più. Mi piace tantissimo utilizzarli prima del make-up perché in questo modo appunto rimane molto più intenso il make-up e rimane anche più a lungo. Vi dirò. Vado assolutamente con il pennello. Vado a prendere Venus. Anzi no. Prima facciamo la sfumatura. Facciamo la sfumatura con Cosmos. Andiamo qui nella piega dell'occhio. E sfumo, e sfumo. E quando penso di aver finito di sfumare, sfumo ancora. E sfumo, e sfumo, e sfumo. E sfumo. Poi vado a mettere su tutta la palpebra, come dicevamo, lui, Venus. Su tutta la palpebra mobile. Venus lo vado a mettere qua. Dov'è qua? Sapete perché è molto bello Venus? Perché è lilla con delle sfumature blu. Molto bello, molto, molto, molto bello Venus. Bello, bello, bello. Poi vado a mettere nell'angolino interno, questo qui più chiaro, che si chiama Quartz. Lo vado a mettere qua. Dove? Qua. Poi, la vado con la nera, vado all'interno della rima interna, così coloro semplicemente un pochino le ciglia. Vado con il pennello da precisione, a prendere l'eclipse, e lo vado a mettere nella rima inferiore, qui sotto. Poi, unisco il verde e il viola che ho messo prima, il verde che abbiamo messo nella rima inferiore, e il viola che abbiamo messo per sfumare. Li unisco, e blend, blend, blend. Poi, metto opale, che è questo bianco opaco. Lo vado a mettere qui su, perché non voglio sembrare appunto un... Tipo anni settanta, mettere glitter qui sotto nella carta sopraccigliare, vado di opaco. Così appunto c'è un tocco un pochino più chiaro, ma non esageriamo. Poi, faccio le sopracciglia, che avrei dovuto fare prima, ma... Vabbè. Siamo a tre di noi, ci confidenza. Vado con lei, mattina di precisione, che adoro, amo, venero. Poi, faccio una bella linea di eyeliner, con l'eyeliner di precisione, questa non è un'edizione natalizia. Con lui. E vado. Proprio faccio una codina piccina piccina, spero. Non è che sono proprio venuti uguali, no. Quindi, se non sono venuti uguali, che cosa fa la Cree? Prende il pennello e sfuma. Sfumo la codina, così almeno sembra fatta apposta, no? Sfumo la codina. Perché siccome è ancora fresco, facciamo un po' in tempo a... riprendere le orrore. Poi, vado a prendere ancora e ancora e ancora Venus. E lo vado a mettere ancora e ancora e ancora. Col dito, così, lo imprimo ancora di più. Mascara. Andiamo di mascara edizione natalizia, metamorfose. E vi faccio vedere lo scovolino. È un bello scovolino cicciottoso, come piacciono a me. E andiamo a mettere il nostro magnifico, fantastico, meraviglioso mascara. Fatto! Ho messo il mascara. E adesso vado a mettere il correttore per togliere il fall down che c'è stato. Mettiamo un po' di correttore qua. Prendo il pennello che ho utilizzato per il fondotinta prima. Adoro questo correttore perché copre e dà proprio tanta luminosità. Lo adoro, mi piace tantissimo. Poi, vado con il pennello da blush. Pennello da blush. Metto la terra, che ha perso lo specchietto, ma adoro questa terra, quindi la utilizzo comunque anche senza la parte superiore. Ed è la colorazione più scura. Vado a scolpire. Ce ne vuole da scolpire qua? E poi vado a mettere l'illuminante. L'illuminante, anche lui, nel vestitino natalizio. Che arriva con la plastichina sopra. E andiamo a vedere che colorazione è. Vediamolo insieme. Anche lui ha la stessa tonalità dello smalto. Smalto che è questo qui. Ed è tipo rosa dorato. Bello, mi piace, mi piace. Andiamo un po'. Possiamo abbondare. Ok. Sì, a me piace. Non mi piace mettere l'illuminante nella carta sopraccigliare, ma qui mi piace tantissimo. L'illuminante, un po' di massa. Anche un po' suonato. Anche di pipito. Perché l'illuminazione ci vuole. Oh, dove va? Bella fiolina. Dove vai oggi? Dove vai? Ad allattare. E sì, tra poco Vittorio mi reclama. Che vuole essere giustamente... O vuole mangiare. Ma abbiamo ancora tempo. Poi, sulle labbra abbiamo vasta scelta. Scelta vasta. Possiamo scegliere tra due rossetti, signori e signori. Due rossetti, anche loro, nel vestitino di Natale. E possiamo scegliere o lui, che è un bel color nude. Faccio vedere qua. Un bel color nude. Oppure possiamo scegliere questo rosso. Allora, lui si chiama 01 Rouge Cosmos. E lui si chiama 02 Rose Astral. Astral. Faccio vedere lo 01 Rouge Cosmos. Che è così. Uh, bello. Ho già scelto. Mmm, buono. Allora, di cosa sa? Allora, io che vi racconto i profumi. Adesso fate la musica di Super Quark. Allora, sa di fiori. Punto. Basta, accontentatevi. Aspetta, qui non ho sfumato. Et voilà. Il make-up che non è assolutamente natalizio, devo dire. Non mi sembra per niente natalizio. Però mi piace tantissimo come sfumature, insomma, come colori. Non so se questo rosso ci sta bene. Non sarebbe stato meglio l'altro. Forse l'altro mi ero troppo curiosa di provarlo. Vero ho detto che oggi volevo pasticciare insieme a voi. E così è stato. Devo dire che Venus mi piace tantissimo. Con questa sfumatura sul violetto celeste. Venus Promosso. Il rossetto è un bel colore. Che secondo me sta molto bene. Con una linea di eyeliner e il mascara un bel po'. Però devo dire che anche così non mi dispiace. Siamo una donna che si appresta al peccato? Oppure no? Vabbè, adesso mi trovo questo. Niente ragazze. Grazie per essere state con me. Grazie per aver visto questo video. Spero che ti sia piaciuto. Se vuoi acquistare questi prodotti o altri brochets. Ti lascio qui sotto il link per fare i tuoi acquisti. Sempre in totale libertà. Puoi ricevere direttamente a casa. Con uno sconto personale. Spese di trasporto gratuite. E tanti regali. E se vuoi avere qualche consiglio. Ovviamente iscrivimi. Ti lascio qui sotto i miei recapiti. Grazie per essere stati con me. Ti aspetto su Instagram. Mi trovi su Cristina. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ma che bello che è questo. Mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo. E noi ci vediamo in un prossimo video.